buon weekend a tutti come promesso sono qui a leggere il libro del weekend è un libro che ho scoperto alcuni anni fa mentre preparavo il uno dei miei precedenti libri meno 100 chili riceppe per la dieta dalla nostra pattumiera libro trovato un po per caso in una libreria ma che non può mancare una biblioteca di chi si occupa di ambiente specificatamente di rifiuti è un libro scritto da un giornalista un giornalista americano di new york si chiama ted bota e il titolo è particolare perché è una parola sola si chiama mongo e mongo nello slang americano statunitense significa resti significa scarti significa appunto immondizia è un libro di dieci storie dieci storie come il giornalista definisce di collezionisti cioè di persone che vivono raccogliendo rifiuti ma rifiuti particolari con i quali di fatto riescono in alcuni casi a sopravvivere in altri casi addirittura a farci un buon quantitativo di soldi ho scelto di leggervi un pezzo della seconda storia perché è quella che ho pensato che più in qualche modo si avvicina a quello che possiamo vedere anche noi o che potremmo fare perché no tutti i giorni e come ho scritto nell'intestatina lo dedico a chi quotidianamente si occupa di riciclare fare raccolta differenziata in particolare di lattine lattine di alluminio di acciaio questo è ted bota mongo ISBN edizioni e vi leggo un pezzo del secondo capitolo che si intitola gli esperti di sopravvivenza durante la mattinata io e Sara abbiamo incrociato diversi tizi muniti di carrelli della spesa che si facevano strada in mezzo al traffico uno aveva addirittura un carrello da biancheria un altro un passeggino anche loro sono collezionisti membri di una comunità che ho imparato a conoscere meglio nei lunghi mesi passati ad aspettare Sara e il DSNI che è il dipartimento di sanità di New York a giudicare dal contenuto dei loro veicoli tra cui Sara si aggira con disinvoltura questi uomini non vanno in cerca di nulla che la possa interessare bensì di lattine capi di vestiario bottiglioni del latte e manici di scopa talvolta un paio di scarpe appeso al manico del carrello come una coppia di dadi allo specchietto retrovisore di un'auto un carrello in particolare è passeggiato su un lato della fifth avenue senza il proprietario è talmente stracolmo di grandi sacchi di plastica blu che sembra stia per rovesciarsi con un carico del genere il carrello potrebbe appartenere a un certo signor murphy ma a dati l'ora il posto è improbabile alle otto del mattino dovrebbe attraversare il central park diretto alla ninth avenue per poi dirigersi a sud verso un centro di riciclaggio chiamato wiccan il signor murphy raccoglie lattine le trova per lo più in un unico posto un'area per concerti all'aperto a central park chiamata summer stage e lo fa durante l'estate quando l'area è in funzione gli altri nove mesi lavora con i senza tetto e i malati di ids sono uno che lavora al sole dice con tono allegro quasi festoso con le lattine del summer stage può guadagnare in certi giorni 8 dollari e in altri giorni 650 dollari che a 5 centesimi a pezzo equivalgono a 13.000 lattine facendo un rapido calcolo se riesce a caricare sul suo carrello 21 sacchi che corrispondono a più di 5.000 lattine che è il massimo che sia riuscito a trasportare il suo guadagno massimo richiede un totale di tre viaggi attraverso central park e giù per la ninth avenue fino al wiccan quando va bene ci vogliono 40 minuti per arrivarci dipende dal carico dal traffico e dalle buche nei marciapiedi mi spiega maggiore il carico più attenzione deve fare alle condizioni delle strade è tutta una questione di equilibrio quest'estate il signor murphy guadagnerà circa 10.000 dollari di solito ne guadagna 15.000 ma il summer stage ha cominciato a vendere la birra alla spina invece che in lattina così ogni volta che viene tirata una leva invece che strappata una linguetta lui perde 5 centesimi nell'economia di un raccoglitore di lattine un cambiamento che un consumatore non noterebbe neppure incide pesantemente sui guadagni quanto il cattivo tempo quando la gente beve di meno è un bel guaio commenta il signor murphy sulla decisione di servire birra alla spina ma non si lamenta è la natura degli affari alla fine loro fanno i soldi io faccio i soldi e sono più ricco di quanto non fossi stamattina non tutti i raccoglitori di lattina sono pragmatici come il signor murphy né così amichevoli e disponibili molti di loro non hanno voluto parlare con me del loro lavoro né di nient'altro in genere mi urlano contro o scappano via il che li fa sembrare un po toccati in molti casi secondo il signor murphy probabilmente lo sono davvero più tempo passi sulla strada e più diventi squilibrato dice se incontrassi un raccoglitore fra un anno potrei notare la differenza il signor murphy raccoglie lattine da dieci anni quattro dei quali in central park detiene quella che lui definisce l'esclusiva per il summer stage facendo sembrare il lavoro più ufficiale di quanto non sia ha un accordo verbale che gli impone di pulire le aree di ristoro dopo che gli spettatori se ne sono andati e di rimuovere le lattine già messe nei sacchi entro la mattina successiva non è un lavoro massacrante per 5.000 dollari al mese un reddito più che decoroso per molti abitanti di new york il signor murphy lo sa il summer stage è uno dei posti migliori per raccogliere grandi quantità alla volta è il tipo di lavoro che ogni raccoglitore vorrebbe anche i grandi condomini non sono male ma un'area per concerti è decisamente meglio il signor murphy continua a setacciare le strade nei giorni in cui non ci sono concerti in programma concentrandosi su edifici e negozi di alimentari ma la qualità del lavoro è diversa è più duro e necessita di un percorso che a volte va elaborato il summer stage invece è un lavoro toccata e fuga mi fermo qui e se avete voglia ted bota mongo gran bel libro buon weekend ciao